Questa, cari amici, potrebbe essere una sorpresa assai gradita da parte di molti perché il mese di maggio inizia con una cosa molto bella. Parliamo di soldi, quindi è una cosa molto bella, assolutamente sì. Quando si parla di soldi in generale si sa che c'è l'obbligo di usare il termine gioia per forza di cose visto che solitamente ci troviamo a parlare di denaro che invece esce di continuo perché le spese, ma quante sono queste benedette spese che sono veramente troppe, vanno a superare di più i nostri introiti, noi lo stipendio lo prendiamo una volta sola invece quante uscite abbiamo durante tutto l'arco del mese e voi lo sapete meglio di me. Il mistero è presto svelato. Si tratta del cosiddetto decreto primo maggio, giornata dei lavoratori tra l'altro che porta con sé una gradita novità, ovvero il bonus 200 euro. Fermi tutti, non si tratta del bonus 200 euro una tantum come lo abbiamo sempre inteso ma sarà semplicemente l'effetto del taglio del cuneo fiscale introdotto con il decreto lavoro. Altra precisazione da fare subito è che non riguarda tutti i lavoratori, ma solo alcuni. Praticamente non è corretto dire che tutti alla fine dell'anno 2023 potranno contare sul taglio del cuneo fiscale di 200 euro. E a dirla tutta, ai lavoratori in tasca andranno effettivamente pochi euro, distribuiti per fascia di reddito di appartenenza. Ecco le informazioni nel dettaglio. 10 euro netti fino a 15.000 euro di reddito. 11 euro netti fino a 20.000 euro di reddito. 14 euro netti fino a 25.000 euro di reddito. 15,3 euro netti fino a 30.000 euro di reddito. 16,4 euro netti fino a 35.000 euro di reddito. Ma non è tutto, perché dal 1 maggio 2023 potrebbe aumentare anche l'assegno unico universale 2023. Qualche euro in più entrerà, ma come si vede non si tratta purtroppo di cifre in grado di far stampare sul viso dei lavoratori un ampio sorriso in grado di consolarli dalle tante batoste ricevute negli ultimi tempi. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.